amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi siamo qui in officina lavoriamo su questa mazza ne abbiamo già fatte tante una macchina diciamo fra i due o tre modelli che ci portano più spesso diciamo suzuki swift le varie giulietta la mazza diciamo sono i tre best seller che lavoriamo più spesso anche più volentieri perché come ho detto tante volte la trovo una macchina veramente molto azzeccata cosiddetta macchina furba non costa tantissimo ha delle caratteristiche molto particolari nel senso un buon motore nonostante sia aspirato questo 2000 la fanno in versione 1600 e 2000 due versioni di 2000 come finiture è veramente eccezionale perché ha a partire dalle vernici utilizzano delle vernici questa è una vernice che rende meno rispetto alla vernice il c'è questo red arena c'è questo colore rosso bordeaux che veramente spettacolare cioè ha delle finiture dei riflessi incredibili e le vernici una particolarità che vi posso dire che le vernici mazza sono delle vernici costosissime perché hanno dei pigmenti sono più strati di vernice quindi come dire bisogna sempre pregare di non fare delle riparazioni di carrozzeria perché hanno un costo che è molto superiore alla verniciatura di una macchina normale anche questo può essere un dettaglio questo tipo di verniciatura sui cerchi si chiama bri metal anche questo ha un costo superiore rispetto al classico cerchio in alluminio insomma diciamo che hanno da un punto di vista estitico e di qualità di materiali non hanno certo lesinato hanno cercato di creare una macchina diciamo unica nel suo genere secondo me i due aspetti tecnicamente fondamentali di questa macchina sono un cambio impagabile un 6 marce che ha una precisione che ovviamente è meccanico che ha una precisione di innesti corta ravvicinata secca bellissima difficilmente ho trovato un cambio noi di macchine ne giriamo veramente tante il cambio mazda per me rimane cioè saranno anche di migliori ma rimane un top quality in assoluto veramente da soddisfazione e il motore per essere un aspirato sale molto bene di giri certo non è un s2000 dei tempi nei tempi che furono un rs8 quelle macchine del genere che sono macchine fuori da un discorso di logico di produzione non dico di massa ma insomma sono macchine molto più di nicchia questa è una macchina più diffusa e ha un motore aspirato che eroga bene fino all'imitatore bastano pochi ritocchi direi che si riesce a recuperare sicuramente un buon valore di potenza ovviamente rispetto a un turbo ha delle caratteristiche diverse ma ci sono tante persone che apprezzano la guida dei motori aspirati anche perché via via andranno scomparire quindi quelli che hanno delle macchine con motore aspirato performante dal mio punto di vista sono fortunati veniamo nel dettaglio quello che abbiamo fatto su questa macchina quindi questa come dicevo è il 2000 nella versione non la più potente perché quella diciamo la versione top la si riconosce dagli ammortizzatori bilsten di serie mentre questi hanno ammortizzatori normali quindi è la versione diciamo appena sotto quella top di gamma quello che ci ha chiesto il cliente sostanzialmente di lavorare sullo scarico adesso Mirko sta lavorando sul terminale quindi verrà montato un terminale duplex quasi centrale abbiamo ricava ha ricavato perché io praticamente non faccio assolutamente niente sono lì per caso ha ricavato l'asola nella parte della bandella che mancava in modo tale da renderla simmetrica e uscire con le quattro con i quattro tubi ovviamente i quattro tubi sono sfalsati partendo da quello più verso la mezzeria che esce di più rispetto a quello esterno in maniera tale da avere da una vista laterale da avere la sagoma del paraurti perfetta se fossero stati tutti e due diciamo con la stessa misura lateralmente la vista sarebbe stata sicuramente non appagante perché questo tubo qua sarebbe risultato eccessivamente lungo quindi diciamo che anche questi piccoli dettagli sono da tenere in considerazione questo è un terminale sportivo omologato ovviamente della ragazza performance e poi dovremmo non riusciamo a farlo oggi perché lì c'è stata una mia dimenticanza ogni tanto anch'io faccio delle cazzate e purtroppo ne pago le conseguenze questa è una cazzata relativa nel senso che avrei dovuto abbiamo ordinato anche il centrale diciamo diretto che andrà a eliminare questo rompifiamma quindi se andrà a togliere questo centrale peccato che ho dimenticato di ordinare una flangia che fa il salto di diametro c'era scritto sul catalogo io non mi sono accorto ordinato solamente i due pezzi e quindi la flangia ci arriverà domani il cliente stasera ha bisogno della macchina ritirerà la macchina solo col terminale domani ci riporterà la macchina nel frattempo arriverà la flangia col salto da 50 a 55 e riusciremo a montare anche il tubo centrale che nella sostanza è questo e che per stasera rimane in officina da noi direi che purtroppo non potendo montare adesso il centrale per la ragione che vi spiegavo prima è inutile farvi sentire il sound perché il sound appagante ce l'abbiamo solo montando centrale diretto e terminale se io adesso vi facessi sentire il sound con il centrale di serie sarebbe diciamo che otteniamo la metà dello scopo in sostanza quindi inutile farvi sentire una macchina metà lavorazione per avere poi un risultato mediocre il risultato ottimale ce l'avremo domani quando andremo a completare il lavoro fra l'altro montare anche il filtro aria in quel caso avremo un sound perfetto sempre dentro i 95 decibel sappiamo ovviamente che il terminale non è omologato però il rischio che qualcuno venga fermato si cacci sotto la macchina oltretutto è anche molto bassa dubito che riesca a intravedere che manca questo brilottino il centrale quello diretto non è omologato però come dico sempre la propensione al rischio o statisticamente i rischi che uno corre li può calcolare abbastanza facilmente direi che il rischio di farsi beccare con un centrale diretto è praticamente tendente a zero se uno sa di matematica sa di che cosa parlo questo è il terminale di serie il centrale l'avete visto ancora montato il terminale di serie questo ovviamente il terminale usciva solo con una doppia uscita laterale quello che vale la pena di fare un raffronto è la volumetria del silenziatore questo è la volumetria la possiamo misurare in spanne in come vogliamo avrà un certo tipo di litraggio chiaramente non so quanto esattamente sia nello specifico questo invece è il terminale omologato quindi sempre una silenziosità a però se noi andiamo a paragonare a spannaccia diciamo che questo è la metà di questo qua quindi andiamo a dimezzare la volumetria del terminale a eliminare rompifiamma questa è la motivazione per la quale andiamo a togliere una parte di fondo assorbente e la macchina avrà un sound sicuramente più più sportivo più elegante ovviamente il terminale come abbiamo sempre detto verrà accompagnato dalla fisce di omologazione che specificherà il seriale del terminale e il tipo di macchina ecco direi che appunto a questo punto il discorso scarico l'abbiamo sviluppato per quello che doveva essere io direi che per oggi è tutto per cui per questa mazza direi è tutto se avremo l'occasione di farvela sentire a lavoro terminato con anche il centrale sicuramente lo faremo magari ve la facciamo sentire domani prima di andare in consegna al cliente con uno short senza rifare un filmato completo per cui come dico sempre io sono disponibile in sede da lunedì al venerdì tutti tutte le settimane tenendo conto che domani è venerdì ed è l'ultimo giorno poi come direbbe il principe carlo mi levo da coglioni fino a settembre non mi trovate più fino a settembre fino ai primi di settembre poi vi romperò le balle ancora però fino a settembre io di macchine centraline scarichi non ne voglio più sapere penserò ad altre cose perché ne ho veramente pieni maroni no scherzo quando uno arriva alla fine del a luglio e prima da luglio agosto prima delle vacanze possiamo veramente abbastanza cotti tutti quanti abbiamo lavorato veramente tanto quest'anno forse anche grazie ai risultati che otteniamo dei video e questo vi chiediamo vi ringraziamo sicuramente di quel contributo che ci date vi chiediamo di supportarci per farlo crescere ancora di più ed avere ancora risultati ancora migliori quindi come dicevo mi trovate in sede fino a domani mi potete scrivere per email io anche in vacanza comunque le email le leggo e rispondo continueremo con i video come se nulla fosse per cui con la programmazione di due video alla settimana da qui ai primi di settembre ce l'avrete garantita per qualunque altra informazione o ci sentiamo a settembre controllate comunque il sito www.nomelegiri.it soprattutto nell'archivio elaborazioni vi andate a fare la vostra bella cultura su tutte le le vetture che abbiamo fatto ce ne sono più di 3600 siamo quasi a 3700 schede vettura per il resto vi auguro buone vacanze un saluto a settembre www.nomelegiri.it